Allora, parliamo anche del discorso del Belin. 2016 quale porte? Anzi, siamo nel 2016, diciamo così, perché ormai ci siamo dentro. Cosa sta succedendo? Il Belin io personalmente penso che sia una cosa positiva, nel senso che va a mettere ordine, a mettere luce in quelle zone che possiamo definire un po' di ombra. Il concetto qual è? È quello che la situazione delle banche era abbastanza frastagliata con delle banche che andavano meno bene di altre, con delle banche che hanno dotato delle politiche che alla fine hanno comportato dei problemi per loro stesse, per gli azionisti, per i risparmiatori. Allora qua ha intervenuto l'Unione Europea dove ha detto io cerco di fare pulizia, allora io la dico in soldoni in maniera molto semplice che capiscono tutti. Belin mira, a mio parere, a separare la politica da quella che è la banca, nel senso la banca fa la banca, la politica fa la politica. Vogliono accorpare le banche, cioè ridurre il numero delle banche, facendo assorbire le banche che vanno meno bene dalle banche che invece sono più forti, che hanno dotato delle politiche sane e che hanno logicamente anche magari degli strumenti, i computer, tutte le pratiche operative più veloci e questo va in direzione di creare delle banche più sane, più snelle, con delle procedure più corrette, più trasparenti, per cui è fortemente positivo per i risparmiatori questa cosa e deve essere vista nella giusta maniera, nella giusta direzione. Qual è l'aspetto che si può verificare? È quello che per accorpare queste banche, per renderle più efficienti bisogna risanarle. Con cosa le risanano? Con i soldi anche dei risparmiatori, cioè il Bellin che cosa prevede? Che in caso di difficoltà della banca vadano a prendere le azioni, nell'ordine degli azionisti, le azioni della banca, chiaramente se ho azioni di un'altra società quelle non le toccano. Mi vanno a prendere poi le obbligazioni... Ecco, bravissimo, mi ha fatto bene a precisare, perché forse si sono ingenerati delle misunderstanding, vado a prendere le azioni di quella banca, quindi se la persona ha fatto investimenti in azioni pinco pallino, quelle non vengono toccate, giusto? Proprio così. Ecco, questo era bene ricordarlo. Stessa cosa per le obbligazioni della banca, dopo ci sono dei gradi di sicurezza della banca, perché anche qua ci sono le subordinate, le senior, le junior, è chiaro che è un'obbligazione più a rischio, più alto il tasso di interesse, meno a rischio, meno alto, cioè più basso il tasso di interesse. E poi vanno a prendere i soldi nel conto corrente sopra i 100 mila euro. Anche qui la cosa che è stata spiegata ampiamente è quella che nel caso di commissariamento della banca, il commissario blocca tutte le attività della banca finché non ha fatto i conti. Cosa vuol dire questo? Che finché non ha verificato le posizioni uno per uno, anche se io ho meno di 100 mila euro in conto corrente, me li blocca. Questo è già successo con la banca Network che hanno bloccato dei soldi nei conti correnti per 75 giorni. E neanche poco, ci voglio dire cosa fa un povero cristiano. Allora, ripeto, il risparmiatore non deve spaventarsi di queste cose, però non deve neanche tenere secondo me i soldi in banche che secondo lui sono palesemente a rischio. Perché? Perché il vecchio detto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, non vedo perché devi andare a rischiare con una banca che è chiacchierata quando ci sono delle alternative di banche che invece sono solide. Però, ripeto, il mio giudizio personale. Assolutamente. Un'altra cosa, volevo chiedere come chiarimento. I famosi 100 mila euro sono ad personam, cioè tipo codice fiscale oppure legati alla banca? Perché anche questo non era... Sulla banca, nel senso sì, ho 100 mila in una banca, 100 mila in un'altra sono sempre... Esatto, sono separati, esatto. Quindi questo era per... Per fortuna almeno questo, è una certezza. Esatto, era proprio per chiarire. Un'altra persona che ci aveva scritto chiedeva del discorso della posta, ma che cos'è? È come una banca? Poste italiane? Secondo lei è come un'entità bancaria oppure banche di investimento ti fanno fare delle speculazioni diverse? In posta devi andare già con le idee chiare. No, no, allora vale di andare con le idee chiare dappertutto. È chiaro che dal primo di gennaio scatta anche sui titoli di Stato il fatto che lo Stato garantirà i titoli fino ai 12 mesi, non quelli superiori. Quindi anche per questo discorso qui, quindi va detto, si viene esteso un po' genericamente. Sì, l'attenzione agli investimenti vale per tutti. Vale per tutti indistintamente. Ci sono altre cose che arriveranno dall'Europa per le banche, a parte i belini di cui si parla, che i cittadini devono sapere, a parte una maggior conoscenza, informarsi, chiedere, stare aggiornati. Questo discorso degli investimenti di cui si è parlato tantissimo. Ci sono altre normative, direttive europee, recepite, di cui non siamo a conoscenza, di cui non si parla perché magari non è ancora successa la disgrazia, secondo me. Aspettiamo che arrivino, nel senso che vediamo. Non sono ancora arrivate. No, no, ogni tanto parlando con gli addetti ai lavori si scopre e no, attenzione, c'è anche questo, c'è anche quello. Abbiamo visto come nelle pieghe della legge di stabilità si sono scoperte tante cose con gli addetti ai lavori, per cui non si sa mai cosa può succedere sostanzialmente. Allora, invece vediamo la situazione mondiale con il discorso degli Stati Uniti. Cosa sta cambiando? Appunto se ne accennava prima, ci può essere qualche ripercussione anche per noi, secondo lei? Ma guardi, allora, per la prima volta la Fed adesso ha alzato i tassi dello 0,25 e anche questo è un aspetto positivo, nel senso che certifica che la crisi negli Stati Uniti è terminata, nel senso che... Ecco, quindi questo lo certifica proprio ufficialmente? Sì, se no non avrebbero alzato i tassi, perché i tassi vanno tenuti bassi finché l'economia non riparte, perché il tasso basso permette all'imprenditore di indebitarsi più facilmente all'accesso al denaro in maniera più facile. Allora, nel momento in cui Sera, ritengono i tassi bassi o li abbassano. Quando vedono che i dati sono positivi, perché adesso ad esempio l'edilizia negli usi è ripartita, il manifatturiero è ripartito, i servizi sono ripartiti, per cui cominciano ad alzare i tassi. Questo il mercato finanziario se lo aspettava e l'ha già scontato, per cui non aspettiamoci particolari ripercussioni. Ecco perché non è, quindi se lo aspettava, era una cosa che veniva attesa. Le ripercussioni per quel che riguarda poi alla fine l'Europa e l'Italia? Ma guardi, allora, per la prima volta la BCE ha fatto una politica divergente dalla Fed, nel senso che, e secondo me dipende anche dal fatto che l'Unione, cioè che gli Stati Uniti sono andati in crisi un anno e mezzo prima circa rispetto all'Europa, per cui ne stanno uscendo prima. Loro hanno cominciato a alzare i tassi. La BCE invece ha detto che col quantitative easing, nel senso che l'emissione di liquidità, i tassi perlomeno parlavano fino a marzo del 2017, per facilitare appunto un'uscita. Per facilitare la ripresa. Questo cosa comporta? Tassi bassi, può essere, dico può essere che il dollaro si rafforzi per questo fatto che sta uscendo l'America e questo comunque è un beneficio nostro perché logicamente se si rafforza il dollaro le esportazioni da parte di noi che abbiamo l'Euro è facile che tendenzialmente possono aumentare. Quindi potrebbe essere vantaggioso insomma per noi sostanzialmente. Secondo me se si verificano queste cose sì. Un'altra questione molto semplice che però tanti si chiedono, perché ci si auspica un po' di inflazione? Quando i cittadini sono abituati che per anni passati l'inflazione era la morte nera insomma. Adesso siamo passati da deflazione, adesso di nuovo ci si auspica l'inflazione. Certo, allora qui in Europa mi collego la deflazione, i tassi di interesse per la prima volta sono dati negativi, nel senso io faccio un titolo a breve e ci rimetto anche in termini di capitale. Allora uno si domanda perché devo portare i soldi là? Beh per la sicurezza, cioè siamo passati dal fatto di dire ti porto i miei soldi quanto me li paghi, quanto interesse mi dai al fatto di dire te li porto in custodia quanto devo pagarti per non perderli. Dopo per quanto riguarda l'inflazione è sempre una questione di proporzione, cioè un'inflazione relativamente bassa crea un olio al meccanismo economico. Un'inflazione nulla a zera praticamente quelle che sono anche le dinamiche finanziarie. Faccio un esempio, inflazione zero, rivalutazione degli affitti zero, l'immobiliare ne risente sicuramente. Quindi per quello insomma è auspicabile anche per tutto il sistema economico. Invece per quanto riguarda, io adesso cerco di raccogliere tutte quante le mail che ci sono arrivate, lo spread. Lo spread quanto è condizionato da questi cambiamenti o anche da questioni internazionali? Ed è una cosa vera o no? Perché tanti cittadini dicono sembra quasi che sia costruito a tavolino. Ma guardi, lo spread c'è sempre stato, nel senso che è il differenziale tra praticamente il rendimento di titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. È chiaro che se si alza lo spread cosa vuol dire? Che i tassi di interesse in Italia si alzano, vuol dire che io per attirare i capitali degli investitori stranieri devo offrire di più. Perché offro di più? Perché sono meno sicuro. Se invece lo spread si abbassa vuol dire che io aumento la sicurezza e posso pagare meno il denaro. Ma c'è sempre stata questa cosa. Chi è che le stabilisce? Perché in passato abbiamo visto quel discorso del nostro governo tecnico, Monti, lo spread era disastroso. Sì, ma lì sono sempre delle politiche che adottano a livello europeo. Dopo più manipolate o meno, io non lo so, penso che ogni risparmiatore se ne faccia una ragione. Quindi non è possibile, a un certo punto non è prevedibile. Ci sono dei dati che a livello di macroeconomia non sono prevedibili per quanto riguarda le speculazioni dei cittadini. Secondo me l'espermiatore deve creare una strategia che preveda tutte queste cose. Bravissimo, infatti è quello che tanti ripetono, che forse è questo che spaventa. Ecco, allora, se io parlo con un cliente normale quando viene in agenzia da medico, senta, ma lei che strategia sta adottando per il suo risparmio? Ti guarda con due occhi. Strategea, ma ho comprato un po' di questo, un po' di quello. Ma lei li mette proprio in crisi? Quale strategia? No, no, per me non è un lavoro, non è una passione prima di tutto. Ecco, per cui ho veramente una grande fortuna. Però cerco di ragionare come, immagino sempre di essere seduto io su quella sedia. Cioè dico, sono io cliente, che tipo di promotore finanziario vorrei, di family banker vorrei? Allora, uno che mi dice le cose come sta, innanzitutto, che mi spieghi, che abbia pazienza, che sia onesto, cioè che sia il buon padre di famiglia. Allora, io parto dal presupposto che dico, la persona che è seduta là non ha chiaro quello che deve fare. Quando io chiedo, ma lei è diversificato? Sì, sì, cosa ha fatto? Tre titoli in croce. Tre è una diversificazione, non è una diversificazione, ma lui non lo sa. Allora devi cercare, con degli esempi semplici, di farli capire pro e contro. Cioè io cerco di non fare delle affermazioni, ma di creare una sorta di condizionamento a lui, nel senso, se si pone delle domande al cliente, si dà anche delle risposte. Se le domande sono corrette, anche le risposte lo aiuti a far sì che sono corrette. Faccio un esempio semplice. Se io le dico, signora, è meglio una macchina o una bicicletta? Lei tendenzialmente cosa mi risponde? È meglio la macchina, giusto? Allora, io dico, se devo andare da Padova a Roma, è meglio la macchina. Ma se io devo andare da Prato della Valle al Pedrocchi a Padova, è meglio la bicicletta di sabato pomeriggio, perché in macchina non mi muovo proprio, ok? Bene. Allora, è chiaro che a seconda di quello che deve fare l'esplanatore, gli do lo strumento. Ma devo anche dirti, guarda, che se tu devi andare appunto da Prato della Valle a Pedrocchi, di sabato pomeriggio, è meglio la bici? Ma può capitare che prendi l'acqua una volta che piove, ma non è che perché piove la bicicletta non va bene, vai in macchina, ok? Stessa cosa, devi andare da Prato della Valle a Roma, ok? Se tu parti in bicicletta, probabilmente hai casello autostradale, arrivi prima di me in macchina, giusto? Ok, allora può sembrare che la bicicletta sia meglio della macchina, no? Poi io quando arrivo in autostrada, cioè, non ti vedo neanche. Sugli investimenti è la stessa identica cosa, cioè degli investimenti che partono bene, di breve, non è detto che risolvano la mia esigenza di lungo periodo. Allora, con il risparmiatore devo cercare di fare questi esempi, che possono sembrare semplici, ma che rendono l'idea di quello che io devo fare. Poi, un altro aspetto importante, è quello che io dico, compra diversificando, cioè il concetto di 10 uova in 10 panieri, fa ridere, ma se si rovescia un paniere, perdo un uovo. Allora, ad esempio, utilizzare nella maniera corretta, con il giusto profilo di rischio, le giuste esigenze, i fondi comuni di investimento, faccio un esempio. Infatti stavo pensando proprio a quello. Qui loro hanno il principio di separatezza, cioè compro delle attività che sono separate dalla banca, e sono diversificate, perché il fondo ha veramente tantissimi pregi, che è il fatto che io non posso, per legge, concentrare tanto le attività su determinate attività finanziarie, cioè i soldi devo per forza spargerli. Però io anche qui devo capire che fondo mi serve, un fondo di breve o un fondo di lungo? Un fondo che ha delle forti oscillazioni o un fondo di breve? Anche qui, se io sono un risparmiatore e dico voglio il fondo di breve perché i soldi servono fra tre anni, è chiaro che devo trovare uno strumento che abbia un orizzonte temporale tarato sui tre anni. Bene, se io dico però guarda sono giovane, ho 25 anni, voglio farmi un fondo pensione e prenderò i soldi fra 40 anni, lo strumento di breve non va bene, va bene quello di lungo, anche se ha delle oscillazioni della volatilità. Anche qui devo dare la giusta interpretazione di quello che io ricevo. Le faccio un esempio che la farà ridere. Allora, TG finanziario, quando ci sono le crisi, meravigliose. Allora, arriviamo dal bombardamento dei giornali, lunedì nero, martedì nero, mercoledì di sangue, crisi, persi, bruciati, totte miliardi, vero? Cioè il risparmiatore è devastato, bene. Arriva il giornalista finanziario, meraviglioso, che fa il suo lavoro, noi glielo vogliamo, che dice panico sui mercati, ondata di vendite. Ecco, allora, un risparmiatore che fa un altro lavoro, riceve il messaggio, panico nei mercati, ondata di vendite, cosa dice? Si preoccupa per i suoi risparmi, dice aspetta che vendo tutto prima di perdere i soldi, giusto? Ecco, allora, se io ho, non so, questo pezzo di carta lo voglio vendere a lei, se lei non vuole comprarlo, io riesco a venderlo? No, giusto? Ci deve essere uno scambio, cioè io dico, vuole questo pezzo di carta, benissimo, me lo paga e io lo scambio e c'è un prezzo, bene. Questo esempio perché? Perché l'ondata di vendite, panico sui mercati, se io gli dicessi colpo di fortuna, ondata di acquisti, giusto? Perché se c'è un'ondata di vendite, c'è anche un'ondata di acquisti, ok? Allora, il ragionamento che io faccio, il cosiddetto conto della serva è, ma scusa, panico nei mercati, ondata di vendite. Allora, tu piccolo risparmiatore vendi, quelli che comprano chi sono? Addormentati? Chi è che compra, effettivamente? Ecco, allora, capendo queste dinamiche, dico, come mai quando ci sono i ribassi comprano gli investitori istituzionali che guadagnano tanti soldi e tu risparmiatore cosa fai? Ti comporti come quelli che guadagnano, come quelli che perdono, cioè segui, faccio un esempio forte, il greggio delle pecore o imposti una strategia che sia corretta? Per cui ho fatto degli esempi semplicissimi per capire che una persona che magari è sempre nella stessa agenzia, è una persona che poco a poco inizia un percorso di crescita con i clienti, spiegandoli, parti dalla tua esigenza, da quello che ti servono i soldi, capiamo il profilo di rischio che è stata introdotta la Mifid 2 e introduce la trasparenza di queste cose, ma è sempre una trasparenza che dopo va applicata, cioè tu devi spiegare le leggi con degli esempi pratici, che il cliente quando si alza dalla sedia, che è un cliente che magari fa dell'altro, che è la signora pensionata, che è l'imprenditore bravissimo nel suo lavoro, ma che è imprenditore in un altro settore, o il dipendente che dice guarda io di queste cose non capisco, lui quando si alza dalla sedia deve dire ho capito, ho una persona che mi ha spiegato, esco che so quello che ho comprato, ad esempio quando fai sottoscrivere dei prodotti che possono avere dentro anche una percentuale azionaria, un conto è dire al cliente ma sai che ci sono delle oscillazioni, però li tieni là nel lungo periodo, un conto è dirgli, senti se noi mettiamo questa percentuale del tuo patrimonio, per cui io ti ho già però tutelato, se ti viene un problema, un mal di pancia, hai già i soldi di breve, i soldi di medio, questi sono di lungo, investo questa cifra, se c'è un crollo del 30% ipotetico, cioè i tuoi 100 ipotetici diventano 70, cosa fai? Dormi la notte oppure vieni qua preso dal panico? Allora uno comincia a ragionare e a dire no, aspetta, allora non ne mettiamo 100, ne mettiamo 50, allora non voglio una cosa dove perdo il 30, voglio una cosa che perdo il 10, per cui alla fin fine io riesco a capire primo cosa vuole il mio cliente e a dargli la soluzione, è come se io fossi un medico, un medico del risparmio, dove non devo spiegarti come è fatta l'aspirina con la composizione chimica, io devo farti un'analisi buona del tuo stato di salute, capire cosa vuoi fare e a questo punto ti do la medicina. Tu cliente che dovere hai se posso permettermi? Allora se lei ha male un ginocchio va da un ortopedico e non la convince il parere dell'ortopedico, cosa fa? Va da un altro ortopedico, giusto? Perfetto. Allora anche qui il mio suggerimento è, caro risparmiatore, hai un interlocutore che non ti convince, cambialo, vai da una persona che possibilmente si è creato una storicità di serietà prima di tutto dei comportamenti, di una persona che è molto più facile che tra virgolette si comporti bene se è sempre nella stessa agenzia, perché purtroppo, ma queste sono cose che abbiamo letto nei giornali, se io lavoro due anni qua, due anni là, due anni là, posso anche essere un po' superficiale, perché tanto fra due anni ti accorgi che quello che ti ho detto non è vero, mi hanno spostato, non mi vedi più. Non va bene questa cosa qua, è difficile, perché anche se io sono un operatore serio, ho fatto due anni in un luogo, dopo arrivo in un altro posto, ora che conosco i clienti, la profilatura, il grado di rischio, le emotività, come hanno investito i soldi, dove, cioè è veramente difficile, è difficilissimo, per cui anche questi operatori a volte sono messi in condizione di operare in maniera veramente difficile. Esatto, ma perché avviene questo, che è una cosa che lei dice, che sembra quasi logica, ma è come un discorso della mobilità nelle aziende, se fidelizzi un dipendente, un collaboratore nel tempo, diventa bravo, acquisisci un know-how, ha un patrimonio incredibile, e invece con dei contratti a breve periodo impara quel che impara, poi se ne va da un'altra parte, non è motivato e via dicendo, tutto questo lavorare non bene, con alta qualità, che ci mette a non essere competitivi. Ancora un po' di più il discorso delle banche, perché hanno cambiato il sistema? Che una volta c'era la persona che in banca la vedevi sempre, ed era un po' la fidelizzazione dell'istituto. Ma qui guardi, allora, se passati dalla politica customer service a business service, nel senso, prima c'era l'investimento sul cliente. Allora, per me è facilissimo, io ho 15 anni che opero nella stessa agenzia, conosco tantissime persone, tantissime persone conoscono me, abbiamo avuto modo di fare un percorso di crescita dove il cliente dice sempre che si fida, non si fida mai dell'operatore, mai, controlla sempre e fa molto bene, però nel momento in cui vede che nelle crisi gli sei stato vicino, lo hai chiamato, lo hai consigliato, lui può anche non adottare inizialmente i comportamenti corretti, perché ragiona nell'ottica troppo di breve, ragiona con l'emotività, ma passata la crisi che ritorna a ragionare con la testa, perché nelle crisi ragiona con la pancia, quando ritorna il lume della ragione, si ricorda quello che gli hai detto, allora dice, ah dottore aveva ragione lei, se l'ascoltavo, bene, allora anche qua io dico, guardi, mi perdoni, non ho insistito abbastanza, anche perché non è bello insistere, non mi piace, però ha avuto la possibilità di valutare il comportamento, ok, bene, adottiamo i comportamenti corretti la volta successiva, allora se io sono sempre lì nella stessa agenzia, posso dire, signora Elena si ricorda che io le ho dato suggerimento all'altra crisi, c'è un'altra crisi, allora lei che promotore finanziario vuole, che family banker vuole, una persona che le fa cogliere le opportunità o ce la facciamo passare sotto il naso, ecco, se io invece mi sposto e lavoro due anni qua, due anni là, non riesco a instaurare questo rapporto con lei, per cui io però anche più facilità, se mi spostano, adesso qui lo dico e lo prendo con le pinze, di dire colloco magari dei prodotti, obbligato, e posso anche permettermi il lusso di non seguirli, perché tanto fra due anni mi cambiano, non li segue quello che arriva, però ripeto, non è colpa dell'operatore secondo me. No, no, ovvio perché sono delle direttive ben precise, è una politica che la banca, secondo me non... Sono politiche diverse effettivamente. Andiamo in pubblicità per pochi secondi.